Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! Ed eccoci qua ragazzi nel video di prova del nuovo brawler più forte del gioco. Esatto, secondo me proprio Colette si può definire il brawler più forte del gioco attualmente in meta. Io ce l'ho a livello 9 quindi se non avete visto il video in cui lo ha maxato mi raccomando dovete assolutamente andarlo a vedere. E oggi insieme a Pietro e Alex, Pietro innanzitutto qua ha fatto un gol pazzesco quindi GG e Pietro, andiamo a provare questo nuovo brawler. Il brawler è molto molto versatile, è un brawler secondo me che può essere utilizzato in varie modalità, quali foot brawl, sicuramente anche arraffagemme, showdown è molto molto forte. E il vero punto di forza di questo brawler è sicuramente l'ulti, l'ulti che ti permette di causare una quantità di danni veramente veramente elevata. Come vedete in questo caso io veramente, la partita dura veramente pochissimi secondi, era la mia prima partita e siamo già a 8 coppe con il brawler. Quindi molto molto semplice, semplicemente dobbiamo ricordarci di giocare bene l'ulti e soprattutto di caricarci più colpi possibili facendo danni. Quindi qua adesso abbiamo uno spike, un po' c'è un dynamic quindi una compa anche abbastanza strong la loro. E vi voglio soltanto avvisare ecco che non farò più live su Twitch per un po' di tempo fino a quando non riesco a sistemare un po' la connessione e altre cose. Quindi niente, vedete sempre i video su YouTube per chi mi seguiva anche su Twitch, questo è tutto. Quindi niente, adesso vediamo Colette che danneggia il pocio, è molto importante danneggere il pocio nel caso trovate una comp col pocio perché Colette vi permette di fare molti molti danni. Quindi l'ulti vi consiglio di usarla soprattutto sui brawler che dovete togliere perché vi permette di one shotarlo praticamente e quindi di non fare troppa fatica. Qua Alex fa un'ottima giocata, GG. Cerchiamo di portare avanti la palla e gliela passiamo a Pietro. Pietro dovrebbe insercarla molto molto semplicemente alla sinistra nell'angolino basso, GG e Pietro. E adesso cerchiamo di gestirla. Ok, sicuramente molto molto bene, molto molto bene, molto molto bene. Qua ci muoio perché lo spike mi fa molto male, da Alex riesce ad ucciderlo, forse gliela passa a Pietro. E forse dovrebbe essere un 2-0 secco? Speriamo di sì. Detto questo comunque, ok, GG da Alex che riesce a fare il gol 2-0, molto molto easy. E siamo già a 16 coppe. E niente, quindi adesso facciamo l'ultima partita nel video di oggi, sperando che vada bene. Siamo contro GX Lore, un Mortis e una Pam. Quindi cerchiamo di gestirla soprattutto sulla Pam, nei caso ci fossero i tank, colette e loro counter. Quindi mi raccomando sappiate che se avete colette andate contro i tank, perché veramente gli fate una quantità di danni innumerevole che fidatevi di poter tornare molto molto utile. Ok, qui cerchiamo di fare i nostri danni molto molto semplicemente. Semplicemente cerchiamo di gestire la situazione. Qua ho sbagliato, forse non dovevo giocarmela proprio così. Però dai, ci può anche stare. Cerchiamo di fare attenzione soprattutto alla Pam. Gli facciamo molti molti danni. Gestiamola, 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 mi raccomando. Ok, ottimo. Vediamo cosa riusciamo a fare. Niente, la Rosa non penso riesca a fare un gran che. A meno che non riusciamo. Ok, perfetto. Perfetto. Ottimo, ottimo, ottimo così. Non so perché ho fatto esattamente una roba del genere. Potevo forse gestirmelo un po' meglio. Qui ci muoio. Alex fa un'ottima giocata, ragazzi. GG ed Alex. Però niente. Il Mortis ce la fa proprio un secondo prima che Alex la spassasse. Forse c'era una spazio a destra. Doveva tirarla a destra. Mi sa che forse questa partita la andiamo a perdere. Peccato perché c'era una compa anche abbastanza strong. Poi le prime partite che faccio con Colette siamo già a 500 coppe. Quindi non è neanche il massimo. Andiamo se Alex riesce a fare qualcosa. E niente, qua ho sbagliato la ulti. Io bisogna fare attenzione ecco con i muretti. Soltanto l'unica cosa di cui bisogna essere abbastanza forte è questa cosa qua. Ma pian piano con la pratica si riesce a sistemare. Non vi preoccupate. Qua forse uso la ulti in modo inutile. Senza forse. Il Mortis riesce addirittura a killarmi. Con la star power prende vita. Ritorna nella sua base. Vediamo se Alex riesce ad insaccarla per provare anche un 1 pari. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Pietro purtroppo ci muore. Alex non penso riesca a fare gol. E invece sì, la insacca proprio a destra. GG ed Alex. E adesso dobbiamo soltanto concentrarsi. Allora. Continuiamo ad usare molto bene Colette. Come vedete cerchiamo di fare più danni possibili. Di togliere almeno un brawler in modo tale da prendere la superiorità numerica. Qua Alex sbaglia di pochissimo la ulti. Ems ci fa fuori tutti. E molto probabilmente sarà il gol del 2-1. Purtroppo la partita finisce così. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Detto questo. Bene ragazzuoli. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.